Hola, in questo video vogliamo vedere come analizzare l'audio che ci viene tipo da YouTube che ho aperto qua, con Ardur, quindi con uno dei plugin con gli analizzatori di Ardur. Prima parte installiamo tutto quello che ci serve. Allora vi spiego un attimo come funziona il tutto. Alsa è il driver della scheda sonora, tutto l'audio di Linux viene da Alsa e sta qua, alla base. In genere Alsa comunica con Pulse Audio. Pulse Audio è tutta quella roba che vi permette di utilizzare i volumi, di decidere, vabbè, YouTube lo tengo più basso, questa applicazione la tengo più alta. In pratica poi il programmino che in genere si usa per regolare Pulse Audio si chiama Pavu Control. È il mixerino con tutti gli ingressi e le uscite. Qual è il problema? È che Pulse Audio è perfetto per tutto quello che si fa normalmente, ma se dobbiamo fare dell'audio professionale ci sono dei problemi di latenza, roba del genere, e allora è stato scritto un altro controller più complicato, meno adatto a chi ascolta la musica, ma molto più adatto a chi registra la musica, che si chiama Jack. Su Jack girano tutte le applicazioni musicali più importanti, tipo Hardware. Cosa succede? Quando Hardware parte, quindi fa partire il server Jack, disattiva Pulse Audio. Quindi in quel momento se stiamo ascoltando YouTube, YouTube va su Pulse Audio, non lo sentiamo più. Allora cosa facciamo? Utilizziamo un programmino che ci fa vedere tutti i volumi, i controlli e le impostazioni di Jack, che si chiama QJack Control. Poi installiamo un qualche programma che fa comunicare Pulse Audio con Jack. E questo programma si chiama Jack Sync. Jack Sync è visibile tutto da QJack CTL e gli potremmo dire di fare tutti i nostri collegamenti. Allora, per fare tutto ciò bisogna prima installare tutto. Andiamo su kx.studio, bar slash repositories, sotto how to ci sono le istruzioni. Questo, aprite il terminale e ci copiate dentro prima questa riga e poi premete invio, eccetera, eccetera. E poi questa, poi questa e poi questa. Io l'ho già fatto. Una volta fatte tutte queste cose, vuol dire che avrete aggiunto ai possibili programmi installabili anche quelli che sono contenuti su questo sito, che sono fatti apposta per Ubuntu 20.04. Quindi non dà conflitti e cose del genere con i repository di Ubuntu. Ve lo potete immaginare come una specie di Play Store, no? Di Android, no? Voi aggiungete delle altre fonti, oltre a quelle di Google, al vostro Play Store. Però bisogna aggiornare la lista dei componenti, dei programmi disponibili. Per far questo si fa sudo apt update. Vedete, ci sono i KX Studio. Dopodiché si fa sudo apt full upgrade. Vuol dire se c'è della roba da aggiornare, valla a scaricare e aggiornala. Qua era tutto già a posto. A questo punto non devo fare altro che installare i componenti che mi servono. Sudo apt install, KX Studio, Meta Audio Plugins, che sono tutti i plugin, quindi anche gli analizzatori. Poi qua dentro c'è di tutto, compressori, sintetizzatori, c'è di tutto. Harddoor, che è la nostra Digital Audio Workstation, cioè DAW. Che è l'equivalente di un ProLogic, di un Cubase. Pavu Control, vi abbiamo già detto cos'è. QJack Control, lo sappiamo. E Pulse Audio Module Jack, è praticamente quel Jack Sync che vi dicevo prima. Vabbè, da me è già tutto installato. Finito. Allora, prima di tutto, facciamo partire QJack CTL. QJack, eccolo qua. Perfetto, facciamo avvia. Ok, voi non dovreste avere questo ingresso del client Jack, che è una roba che uso io per registrare il desktop. Però, in generale, avete Pulse Audio Jack Source, che è appunto quel ponte tra Pulse Audio e Jack, e System, che è la scheda sonora. A sinistra ci stanno gli ingressi, a destra ci stanno le uscite. Quindi, se gli ingressi di System, cioè della scheda sonora, sono il microfono Capture 1 e Capture 2, che vedete, è collegato con cosa? Con Pulse Audio Jack Sync, cioè, in pratica, va a YouTube. Quindi, non ce ne può fregare di meno, quindi lo possiamo disconnettere, questa cosa. Poi, che YouTube vada al sistema, non mi interessa più di tanto, perché poi tanto lo sento attraverso Hardware. Quindi, ovviamente, System Out sono le casse, no? Playback. Quindi, per adesso lo disconnettiamo. Adesso, voi non dovreste avere più collegato niente. Io ho collegato solo questo, perché, appunto, sto registrando il video con l'audio dal programma. A questo punto, possiamo aprire Hardware. Andiamo qua. Hardware. Nuova sessione. La chiamiamo Analizzatore. Eccolo qua. Creiamo una nuova traccia. Una nuova traccia audio stereo, perché dobbiamo registrare da YouTube, che si spera sia stereo. Vogliamo vedere qua il mixer, quindi, vista, mostra il mixer dell'editor. Così si vede, vedete, questo è il master e questo è l'audio. A questo punto, dobbiamo dire a questa traccia di prendere l'ingresso da YouTube, quindi da Firefox. Scriviamo YouTube. Ok. Allora, prima di tutto, dobbiamo aprire Pavu Control. Cioè, dobbiamo dire al Pulse Audio di mandare l'uscita di YouTube a JackSync. Quindi, Pavu Control. Eccolo qua. In questo momento, Firefox, come uscita, vedete qua, da riproduzione, ha la Scarlett, cioè la mia scheda sonora. Quindi, io metto JackSync. A questo punto, è collegato a JackSync. E quindi, dovrò dire a JackSync di andare nella traccia YouTube. Vedete, quindi vado su Ardur. Esplodo Pulse Audio, JackSync e anche Ardur. Vedete che c'è la traccia YouTube. Allora, collego Front Left con la prima YouTube. e Front Right con la seconda. Connetti. A questo punto, se premo questo, ingresso, ecco che sento entrare tutto qua dentro. A questo punto posso attaccare l'analizzatore. Quindi, clicco col tasto destro qua, sopra il Fader. Per categoria, ho gli Analyzer. Qua c'è tutto. Vedete? Possiamo mettere uno Spectrum Analyzer, per esempio. Eccolo qua. Vedete che mi sta già analizzando il microfono, perché ho collegato l'ingresso di JackSync. ma se attacco YouTube vedete che mi sta analizzando e qua possiamo attaccare tutto quello che vogliamo. C'è anche uno Scope. C'è di tutto. Insomma, ci siamo riusciti. Al prossimo video.